ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi come state? era da un po' che non facevo un video chiacchiere e questo periodo mi sembrava proprio il momento giusto volevo confrontarmi con voi ma volevo anche parlarvi di tante tante cose che riguardano il canale e visto che mi state chiedendo di fare più video settimana ma non ho davvero possibilità di farne più di tante ho deciso che avrei fatto un video effettivamente di notte per portarvi più contenuti purtroppo in questo periodo sembra assurdo ma non c'è letteralmente un'ora di silenzio al giorno io spero che domani vada meglio però mi sto trovando a girare alle due di notte spero non sia così sempre perché non ho la lucidità di girare bene durante la notte semplicemente questo video chiacchiere ce la faccio ma come potete anche di poi gli occhi rossi non è battibile allora come state vivendo questo periodo di quarantena? per me onestamente ora come periodo non sta cambiando molto io comunque sono c'è lavoro da casa perché se lo chiedesse fare questi video è il mio lavoro in attesa che esca il concorso per l'insegnamento quindi sì questo è il mio lavoro perché adesso si sta cambiando ho detto Chiara perché ha detto a me non è cambiato niente perché lavoro da casa mi hanno chiesto Chiara ma che lavoro fai io? quindi quindi per quanto riguarda lo stare in casa a me non è cambiato molto però insomma nel weekend non poter uscire non poter andare in palestra pesa comunque volevo prima di tutto ringraziare se c'è qualcuno che mi segue di queste persone medici, infermieri OS operatori sanitari volontari e anche tutte le persone che sono nei supermercati nelle farmacie e dietro tutti questi meccanismi perché fondamentalmente si stanno sacrificando per noi che lo sacrificio ragazzino è stare a casa ma lavorare giorno e notte essere esposti per permettere agli altri di poter stare a casa al sicuro quindi mi sembra che stare a casa sia un obbligo morale da parte nostra nonché un incredibile privilegio quindi la prima cosa che vi voglio dire perché mi sento di doverla dire è state a casa non avete degli amici neanche per bere un caffè a casa vostra neanche per fare una chiacchierata lasciate stare c'è internet state sempre con le solite persone non andate in giro con altre persone vi scongiuro perché è il minimo che possiate fare in questo momento detto questo perché dovevo dirlo perché io vedo ancora gente in giro fra amici che corrono al parco e vabbè appunto volevo ringraziare queste persone scusate non sono molto fresca in questo momento poi volevo volevo dirvi anche una cosa personale in questo video solo una perché dopo tutte le altre saranno dal canale in molti prendo un pannello vi faccio un po' di profi in molti mi avete chiesto di fare un video motivazionale tranquillizzante in questo periodo molto particolare la questione è che proprio non me la sento sono una persona come gli altri sono umana come gli altri e non sto prendendo questo periodo nel migliore di modi soprattutto per un motivo che non volevo dirvi onestamente volevo dirvi tutto il contrario ma mi trovo costretta a dirlo anche perché giustamente mi fate molte domande nei commenti e da un po' che porto me ne trovo adesso ho cambiato anelli però porto un anello sotto l'anello di fidanzamento e molti mi chiedete Chiara ma ti sei già sposata ma hai una fede non c'è tanto che ti sei sposata quando ti sposi e il punto è questo avrei voluto dirvi un po' di giorni fa perché ero con un mese versare della data prefissata del matrimonio quando mi sarei sposata il problema di tutto ciò è che non si sa se ci si può sposare e io non saprò cioè per almeno un mese ma anche un mese e mezzo io non saprò se mi posso sposare nella data da un'impressabilita c'è di peggio nel senso so che in questa situazione c'è molto di peggio e ringrazio di dover essere preoccupata solo per questa cosa per ora davvero non prendetemi come una persona che si lamenta di poco perché in questa situazione c'è molto tipico lamentarsi però è un qualcosa che non mi fa vivere con serenità questa situazione tolto il fatto che io per ora potrei vivere la con serenità perché ho l'ho fortuna in me di non conoscere nessuno che è stato colpito tra parentesi quindi non mi sto lamentando non sto dicendo che sono la persona più sfortunata del mondo ma che questa cosa sul sul mio umore su nella mia testa non non mi fa non mi fa star bene ci penso tutti i giorni tutti i giorni mi pesa sempre un po' di più non so se qualcuno di voi è messo come siamo messi noi e potrà capire oppure chi si è già sposato potrà potrà immetissimare sul fatto cavolo ma è pesantuzzo anche perché se non ci sposiamo lì non sappiamo veramente quando sposarci perché poi tutte le date sono occupate e non si sa neanche quando finirà tutta questa storia quindi non lo so ragazzi e per questo non non me la sento minimamente di fare un video motivazionale di fare un video rasserenante perché di testa io non ci sono per fare questo contenuto di video questo particolare contenuto di video preferisco fare altro parlare d'altro e svagarmi anche io proprio con i video non pensarci perché non non ne ho bisogno ci penso già tutto il giorno bene mi sono tolto abbastanza un peso perché vabbè spero capirete con il giusto peso spero capirete comunque non è una situazione troppo facile e che soprattutto mentalmente il non sapere non sapere quando finirà non sapere quando sapremo se potremo farlo o meno sperare che se lo faremo ci siano tutte le persone nel massimo quindi ok basta con questo ho però pensato a un roleplay secondo me carino diciamo anti ansia è l'unica cosa assimile che mi sento di fare perché secondo me è una vita carina e che vedrete probabilmente venerdì quando vedrete questo video sarà mercoledì sera quindi venerdì probabilmente vedrete questo roleplay simpatico ok parliamo d'altro perché è stato molto piusante parlarne spero noterete che ho fatto un nuovo acquisto per il canale ed è un acquisto che non mi posso far vedere in questo momento perché sto parlando della mia nuova macchina fotografica ho comprato recentemente la settimana scorsa una sony rx100 il settimo modello quindi l'ultimo in tutte le recensioni che ho visto alla fine dicevano che era la migliore non a non a buon prezzo quello no ma la migliore e onestamente necessitavo assolutamente di una di una nuova fotocamera perché quella che avevo prima la reflex semi-professionale che avevo prima quindi qualità molto alta aveva l'enorme enorme problema della messa a fuoco qualcuno di far avrà notato anzi molti di far avrà notato che vabbè io avevo gli obiettivi nel primo la messa a fuoco nel primo dovevo stare molto lontana quindi non era comodo perché non era comodo ed è quello che faceva lo sfoco molto e molto sfocato dietro la messa a fuoco era leggeramente più silenziosa ma comunque sentiva era molto lenta e mecca non mi viene il termine comunque non particolarmente funzionante in modo comodo e appunto comunque faccio il casino nell'altra con l'obiettivo grandangonale faccio un casino tremendo e la sostanza quindi che andava sempre fuori fuoco o volevo stare a fuoco faceva casino all'autofocus o non stavo a fuoco e c'era silenzio invece questo come vedete mette a fuoco in un secondo non fa casino posso stare vicino anche l'obiettivo è un po' più piccolo quindi posso avvicinarmi con le mani così e non si vedono sfocate quindi mi piace tantissimo la trovo assolutamente perfetta versione dei miei video e la qualità anche in sé proprio è molto più alta vi basti pensare che un video di 30 minuti con la vecchia macchina fotografica pesava sui 900 megabyte un video di 10 minuti con questa pesa circa 3 giga e mezzo l'altra facendo 25 mila fotogrammi al secondo questa 50 mila fotogrammi al secondo l'altra HD questa full HD e può fare anche il 4K ma non mi sembra il caso per ora quindi datemi un parere sulla nuova qualità questa che fa vedere ogni mia minima cosa ogni mio minimo difetto della pelle me lo fa vedere un disastro vabbè oggi ho tutti i rossori qui e mi è venuto uno sfogo qui non è un erba è uno sfogo vabbè quindi molto bello e si vedono tutti i particolari fantastico soprattutto quando mi avvicino con l'altra non capitava e niente è quello stesso vedrete anche la mia pelle è un disastro in questo periodo ok quindi sono davvero molto contenta di questo acquisto ed è un acquisto che ho deciso di fare appunto perché era ora perché non potevo fare tantissimi video perché non avevo la messa a fuoco ed era un casino quindi ho deciso diciamo di fare un investimento grosso perché il canale dovrebbe fare un altro aspetto un attimo ed è per questo che ho aperto anche un'amazon wishlist perché perché ho deciso appunto di fare un investimento grosso io per il canale e di decidere di sospendere per ora gli investimenti più piccolini quindi diciamo le attrezzaturine per il canale non so non so se questo è il periodo giusto per un amico regalo sull'amazon wishlist anzi no perché i guerrieri lavorano già abbastanza quindi per ora sappiate che esiste e basta però insomma sappiate che più avanti quando finiva tutto ciò esiste la mia wishlist di amazon in quel esempio vi faccio un esempio ho messo un set da dottore giocattolo con tantissimi attrezzini che sarebbero utilissimi per il canale ho messo una cassa tipo da supermercato giocattolo perché mi metto un video particolare con quella ho messo un termaroller perché ho visto i film in cui fai dei suoni particolarissimi per me dei video particolari ho messo tanti oggetti non troppo costosi ci sono stavate attenta non ho superato un certo budget e sono tutti per il canale e quindi si è semplicemente questo non c'è nulla di mio personale non c'è nulla per me anche il termaroller l'ho scelto quello meno costoso perché appunto è per il canale la prova e quindi volevo parlarvene semplicemente perché so che non tutti saranno d'accordo con questa mia scelta però io ho dovuto scegliere fra fare tanti acquisti piccolini per magari video specifici eccetera o se fare questo acquisto grosso e ho deciso assolutamente di fare questo acquisto grosso quindi se qualcuno di voi vorrà mai dare una mano per il canale ne sarò grata se no aspetterete che io decida di fare quegli acquisti pian piano e quindi fare questi video semplicemente questo insomma il canale si è andato avanti anche senza questi eccenti quindi potrò andare avanti anche senza questi eccenti ma volevo parlarvi anche di un'altra cosa importante riguardo l'aiutare il canale di questa cosa secondo me è molto furba molto utile e soprattutto completamente gratuita la potete fare tutti spesso nella mia descrizione sotto sotto ai video è da un po' di mesi che ho messo un link di affiliazione amazon un link generico poi c'è tutta la mia attrezzatura con i link affiliati ma nessuno prende quella attrezzatura quindi non servirà niente praticamente adesso magari vi metto anche la schermata qui così capirete dove andare a vedere comunque praticamente nella mia descrizione c'è un link affiliato amazon che vi parte direttamente alla home di amazon e da lì potete fare qualsiasi acquisto quindi se avete in mente qualsiasi importante su amazon come una macchina fotografica un cellulare ma anche una custodia o qualsiasi cosa anche piccoli in realtà su amazon facendola attraverso questo link a voi non cambia nulla perché il prezzo è identico identico non cambia neanche mezzo centesimo e amazon mi ringrazierà di aver appunto usato il mio link affiliato dandomi una piccola piccola percentuale del ricavato quindi voi avrete comunque acquistato il vostro oggetto su amazon che dovevate comunque acquistare e amazon mi ha ingraziato con una piccola percentuale del ricavato a voi non cambierà nulla e dico nulla sul prezzo quindi mi sembra una cosa carina insomma se avete appunto un acquisto da fare e vi viene in mente che io ho questa affiliazione amazon se volete fare una donazione gratuita al canale questo secondo me è il modo più intelligente per farla e questo devo dirvi tante cose ma sono un po' tipo rastornata e non riesco a dirvele in maniera decente bene quindi in questo caso penso proprio ma proprio ma proprio ma proprio ma proprio 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 se ha aggiunto l'ora di a pasar la luce e augurare e augurare 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 buona 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 notte 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 e sweet dreams bianessna tussus me bianessna tussus me bianessna 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 con dell'altro ok buonanotte pasticcini io vi mando un bacione sicuramente virtuale ok e noi ci vediamo per un prossimo video grazie se state con me qui buonanotte che li spero che li spero grazie grazie